eccolo qui il regista più bello d'Italia, salvatore pedalino alla guida di un mezzo potentissimo, lo seguiamo, guardate qui il grande manovratore, si apre salvatore, chiede se si apre qualcosa Benissimo, guardate con quanta professionalità il signor pedalino accede al mano frigorifero di questo mezzo, ricordiamo che questo video è sponsorizzato dall'azienda Domenico Le Londra, ecco qui l'accordo, stiamo facendo le filmine e le rose è sponsor, è finito un amore gli operagli, siamo autorizzati a firmare questo, va bene, abbiamo trovato finalmente l'accordo, notate il signor pedalino con quanta precisione è assistito al signor Cannizzaro opera, quest'oggi 23 maggio 2012, in questo periodo di grandi terremoti, grandi eventi negativi, vedete questa gente come lavora e si guadagna il pane ogni giorno, notate quanta professionalità viene messa da questi operai della ditta Le Rose, se vedete qualche fiammata non ci fate caso, noi dobbiamo parlare solo all'integrità del signor pedalino che in zero viene, alla sua salute soprattutto, altrimenti poi non ci potrà seguire nelle nostre grandi serate, ci avviciniamo, mi vado? E oggi è un po' nevrotto il signor pedalino che sento delle condizioni climatiche che non sono delle migliori per il mese di maggio, come vedete oggi non è attento come al solito, non è riflessivo, è un po' preoccupato diremmo perché la situazione di questo mezzo pare non sia delle migliori, notate la grande classe che lo contraddistingue sempre, si interviene anche su componenti elettroniche.